Sì, Alberto. Buonasera a tutti. A proposito di città in questione, io sono molto contento di essere a Torino e vi annuncio da subito che faremo un'altra presentazione altrettanto impegnativa a Palermo e vi invito tutti a partecipare. E forse una anche a Bari. Allora, io devo essere velocissimo, alcune cose sono complicate ma non voglio farvi perdere tempo. Intanto noi rappresentiamo la continuità rispetto al ministero precedente perché Del Rio è quello che ha detto bisogna fare analisi costi benefici degli investimenti. Ha fatto addirittura delle linee guida a cui ho collaborato, quindi un'iniziativa straordinariamente innovativa nel contesto italiano. Che però, per ragioni che devo dire a me non sono chiare, poi non ne ha fatta nemmeno una di analisi costi benefici su 132 miliardi. Questo sono 4 miliardi. Su 132 miliardi che sono sul tavolo non ne ha fatta nemmeno una. E su quei 132 miliardi non sembrano essere emersi preoccupazioni metodologiche così vivaci come sono emersi per questa opera. Quando sono state decise e messe nel programma di Del Rio, nessuno ha sollevato che forse bisognava fare qualche conto, visto che erano 132 miliardi. Cerco di andare molto veloce. Sono stati dichiarati tutti strategici i 132 miliardi. Un'altra cosa, questo per noi è davvero un mezzo successo perché parliamo di numeri. Personalmente, anche il professor Ramella, ma io sono 15 anni che dico è più democratico prendere decisioni basate sui numeri. Si possono criticare i numeri e siamo qui per criticarli, ma questo ha una valenza democratica rispetto a quello che io chiamo l'arbitro del principe. Che a seconda di come si sveglia decide e ricorderò per esempio la lavagna di Berlusconi che è stato il grande esempio di arbitro del principe. Nel senso che sono state fatte 19 grandissime opere e tutti pensavamo che c'erano dietro dei conti, non c'era dietro un numero. Terzo punto, una cosa minimamente logica, non citerò più nomi e non farò più ips ed ipsit, non è un'analisi alla Adler. Cioè Adler è stato il padre dell'analisi di costi e benefici nei trasporti e io ho lavorato sul suo testo per dieci anni alla Banca Mondiale. E quel testo è superato perché il mondo è cambiato. Le analisi che si fanno oggi sono molto più complesse, è un'analisi resource based quella lì. Adesso invece si fanno analisi di surplus e si sommano i surplus di tutti gli stakeholders e se ne tirano le conseguenze. Perché non ha contenuti distributivi, è un'analisi solo di efficienza. Quindi è un'analisi diversissima, ne abbiamo discusso con Derus che forse qualcuno di voi conosce, su questo. Questa è un'analisi per surplus di stakeholders ed è una differenza fondamentale come vedremo. Cerco di andare più veloce che posso. Si è dovuto introdurre l'analisi di aspetti monetari, dell'analisi di surplus perché il surplus dei produttori non può che essere espresso in termini monetari. E quindi non si poteva più stare sull'analisi resource based. Un'altra cosa che sembra acclarata e qui tocca la ramella è che le accise e i pedaggi superano, stando a dati ufficiali, superano di molto i costi esterni. Per strada, di molto. E ci sono fonti letterarie importantissime. Il primo è quello dell'IMF, dell'International Monetary Fund, ma anche l'OECD ha pubblicato uno studio analogo. E adesso io sto lavorando a un lavoro della Commissione Europea che ritorna pienamente sui costi esterni versus le accise. Cioè il livello di internalizzazione che era considerato un tabù. Io ho lavorato molti anni alla Commissione Europea. Era considerato un tabù, non discutibile, i livelli di internalizzazione. Devo andare più veloce che posso, però. Se viene accettato il fatto provato dai numeri che le accise sono nettamente superiori ai costi esterni, questo ha un impatto che va ben altro all'analisi di costi e benefici. Ben oltre all'analisi di costi e benefici. Cambia il quadro delle scelte politiche basate sui numeri, perché i numeri sono quelli là. Adesso sta rivedendo la Commissione Europea quei numeri, ma la base logica è che si incomincia a parlare, a ragionare in termini di livelli di internalizzazione. Poi, noi abbiamo trascurato due cose importanti nell'analisi. Primo, i costi di cantiere, che secondo i notab sono straordinariamente elevati, ma noi per stare on the safe side, cioè come dire, per non aggiungere cose contro l'opera, li abbiamo considerati nulli. E questo è molto on the safe side. Le scurette, secondo i notab, sono elevatissimi questi. Noi nemmeno li abbiamo sicurati. E questo è un argomento a cui il movimento nostro commettente teneva molto, non so se ho reso l'idea. Poi non abbiamo considerato in termini di efficienza nemmeno il problema del average cost pricing versus marginal cost pricing, cioè, vado troppo sul tecnico, c'è un problema, cioè che tipo di tariffazione si usa in ferrovia e sulla strada per remunerare l'investimento. C'è un abisso, la ferrovia va a marginal cost pricing, cioè fa pagare solo i costi di fare andare i treni, più o meno, semplifico molto. Invece le autostrade, generalmente, con qualche soldo pubblico, ma generalmente, sono average cost pricing, cioè gli utenti devono pagare tutti i costi di investimento, più i profit di autostrade, più i costi di esercizio, eccetera. Il ferro non paga nemmeno i propri costi di esercizio, perché parte dei costi di esercizio sono di nuovo a capito dello Stato. Poi, ho quasi finito, perché Francesco è il mio avversario in questo momento per il tempo. Due parole sugli aspetti macro. Il surplus sociale, l'ho scritto 20 volte, non serve per valutare gli impatti macroeconomici. Il surplus sociale misura una cosa diversa. E questo è un problema che rimane drammaticamente aperto. E ci sto lavorando e non riesco a portare a termine il lavoro che sto facendo, perché mi viene impegnato in altre faccende adesso. Ma è un tema di straordinaria importanza. L'analisi di costi-benefici per gli aspetti macroeconomici non dovrebbe essere usata. Ma la letteratura non mi aiuta, se non con modelli CGE, cioè estremamente complessi. Ma in modo più accorciato, più rapido, più colloquiale non si può. Spesso viene usata l'analisi di valore aggiunto, ma l'analisi di valore aggiunto non si può fare in modo isolato, perché dice sempre sì, sono gli effetti a valle del progetto. Se si fa un'analisi di valore aggiunto, qualsiasi opera tende a diventare fattibile. Invece lo vediamo molto spesso affiancata all'analisi di costi-benefici, ma è tecnicamente impossibile. Non si può, perché le logiche sono radicalmente diverse. È un'analisi super-chianesiana che assume nullo il costo-opportunità dei fattori, per carità, sacro santa, l'ho applicata anche, ma è un'altra roba. L'analisi di costi-benefici ha obiettivi diversi. Poi, sono sostenuto spesso che quest'opera è anticiclica e che le grandi opere sono anticicliche. Date i numeri venuti fuori, ci vuole 10 anni a finirla, sembra un po' difficile. Se siamo ancora in recessione grave tra 10 anni, parliamone, ma è un po' difficile definire anticiclica un'opera di questo tipo. Su questo siamo molto d'accordo anche con il professor Boitani, su cui abbiamo scritto diverse cose insieme su questo aspetto. Genera poca occupazione per euro speso. Questo è un dato di nuovo fattuale, cioè rispetto a interventi, per esempio per la ristrutturazione del patrimonio edilizio, la catena del valore aggiunto è breve e quindi gli impatti moltiplicativi, dai pochi dati che ho, perché non ci sono analisi adeguate di confronti degli impatti, vedendo solo il primo fronte, cioè l'occupazione diretta, è piccolissima, perché è un'opera fortemente capitale intensa, questa basta vedere un cantiere, insomma rispetto a mettere a posto delle case, dei vetri, dei serramenti e mille altre cose, l'occupazione diretta è molto 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 poca. Non c'è nessun ritorno finanziario per le opere ferroviarie, il che non è un problema piccolissimo, l'ho già anticipato, cioè le opere finanziarie devono pagare tutti i contribuenti, quali che siano i contribuenti, tutti, il 100%, proprio perché sono a marginal cost pricing invece che a average cost pricing. Scusate se sono andato un po' con il tecnico, lascio la parola sul tecnico, lascio la parola. Grazie, grazie.